A E PCC e poi c'è Cattelan, è arrivata la dedica di Alessandro Cattelan proprio contro gli Ethers, contro gli odiatori di Silvia Romano. Sarebbe una fattispecie la seguente, leggiamolo insieme, pensavo che fosse il punto più basso. La dedica a Torano ha puntata Alessandro Cattelan del suo programma in onda martedì sera alla cooperante italiana rientrata a Milano dopo essere stata rapita in Kenya per un anno e mezzo, ovvero è rimasta in loco. Il monologo pungente del conduttore è dedicato a tutti gli odiatori di Unita Tastiera che si sono letteralmente catapultati a scrivere insulti anche piuttosto feroci nei confronti di Silvia Romano. Martedì sera su Sky 1 è andata in onda questa puntata, ha avuto un sacco di spettatori, ha avuto come ospiti Fabio Rovazzi, Stefano Beri e come pubblico ragazzi di Fridays for Futures d'Italia. È stata dedicata quasi tutta a Silvia Romano, una ragazza attivista che purtroppo è stata rapita e Cattelan ha fatto un monologo importante e interessante contro gli odiatori, contro gli Unita Tastiera che si divertono a scrivere cose cattive, feroci e offese e minacce nei confronti di Silvia Romano. È stato molto bravo secondo me, il buon Cattelan. Il saluto caro a voi italiano e il merito italiano.